Eccoci, buongiorno amici, oggi ci troviamo sempre in Alto Adige, esattamente in Val Casies. È una vallata sicuramente meno conosciuta, ma non per questo altrettanto bella. È una vallata che, come potete vedere, ha delle particolarità come questa alle mie spalle, questo ghiaccio, questa galaverna, che è dovuta a un ruscello che è adiacente e sottostante, ha una temperatura altrettanto rigida e ha la mancanza di sole per parecchie ore della giornata. La Val Casies parte praticamente da Munguelfo per arrivare fino a Santa Maddalena, percorrendo circa 14 chilometri. Munguelfo per arrivare, 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 Munguelfo per divisare, Mungukelti A Munguelfo per arrivare, a Munguelfo perவare, Mmusicu per arrivare, Mungurove, Munguertas o pioce 승esça o ghiaccio, internazionale che si svolge nel mese di febbraio, la Gran Fondo della Val Casies che porta praticamente migliaia tra spettatori e atleti. Grazie a tutti.